Senza Frassinetti e Planezio, nonostante l'espulsione di Burkic, la Madori strappa i due punti a Faenza nel derby. Al Cari Sport i Tigers trovano energie nascoste, mentre la Raggi Solaris non approfitta delle defezioni degli avversari e si fa travolgere col punteggio di 84-70. Abbiamo fatto una super partita, probabilmente il divario che c'è stato in un momento della partita non dà il valore a quello che abbiamo fatto noi, come se Faenza fosse una squadra non all'altezza, in realtà è merito dei miei ragazzi che dal primo secondo hanno messo una cattiveria agonistica in campo, un'aggressività, un'intensità passando sopra a qualsiasi problema che abbiamo in questo momento. Io ho invidiato il fatto che uno fosse così carico da farsi espellere, per cui lui la vede in modo negativo, io la vedo negativa per quello che riguarda il mio gruppo, avrei voluto che uno arrivasse a quel limite lì che dava l'idea che dal punto di vista nervoso eravamo pronti a questo derby. Invece loro molto più pronti di noi, hanno trovato risorse dalle assenze pesanti, noi invece forse pensando che c'erano delle assenze pesanti fosse facile e invece quelli che hanno sostituito hanno giocato benissimo. Io guardo l'esempio di Rossi che ha giocato una partita in cui se segnava o non segnava quel tiro e ha fatto il 110%.